Le quote del totalizzatore, problemi per Melanie Song che sta perdendo l'allineamento, ha galoppato adesso a una ventina di metri, una trentina di metri dal gruppo e prova l'inseguimento, si ritrae Mozart Bypass, stacco della macchina, Model Griff veloce, va su Mr. Albi che sta superando Mr. Olux, ha risbagliato Melanie Song quando si imbocca la prima curva e Model Griff che prende il comando su Mr. Albi che scende a pelo davanti a Mr. Olux, 13.7 il mini strappo con il quale Model Griff ha preso tutto sommato senza problemi la testa nei confronti di Mr. Albi, al terzo Mr. Olux, al quarto Mozart Bypass, continua a galoppare lontana Melanie Song, si vanno a completare i primi 400 metri in 29.4, la fila indiana prosegue senza variazione di sorta, Marco Smorgon può fare quello che vuole in sulchia Model Griff, a mezza ruota Mr. Albi con Roberto Vecchione, quindi Mr. Olux e Mozart Bypass, 45.7 addirittura i 600 molto tattici, 32 dopo il mini strappo, si imbocca la seconda curva, si continua ad andare piano, d'altronde Marco Smorgon non ha nessun interesse ad aumentare il ritmo, si arriva così a percorre 800 di molto tattici in 1.1.6 ma 32.2 di seconda frazione, sta per finire la seconda curva, si andrà di fronte alle tribune, non cambia nulla, Model Griff, Mr. Albi, Mr. Olux e Mozart Bypass continuano belli ordinati in questa fila indiana di 4 unità, si arriva al chilometro in 1.17.2, 31.5 dal palo sino metà letto opposta, Mr. Albi sposta e va deciso su Model Griff che cerca di argomentare, ma sta facendo fatica a contenere il parziale dell'avversario che in 150 metri la supera di forza, il parziale in 29.8, 1.31.3, tre quarti di miglio, con Mr. Albi che ha preso 1.5 a Model Griff che fatica di argomentare, accostata da Mr. Albi, quando siamo a 2.50 dal palo, Mr. Albi in chiara evidenza, Mr. Albi va invece su Model Griff, quindi Mozart Bypass che ha perso contatto nello strappo, la retta d'arrivo per Mr. Albi, due secchi avanti a Model Griff che ha contenuto l'affondo per il momento di Mr. Albi, Mr. Albi continua indisturbato con Roberto Vecchione a Frustino indietro, viene a vincere al minimo dei giri, riconfonte di Model Griff e di Mr. Albi. 29.9 gli ultimi 4, 44 gli ultimi 6, 2.1 abbondante, 2.1.3 il tempo totale, 1.15.8 la media, nelle immagini la vittoria molto facile del favorito Mr. Albi, le cui cose si sono semplificate per la riotosità in avvio, ha sbagliato ben prima dello stacco, ripetendosi poi allo stacco la co-favorita Melanie Song, la vittoria della prima di San Siro per Mr. Albi, Roberto Vecchione, il training di Olga Rellert, i colori sono quelli della Kumara Stable, 2 la quota al totalizzatore, 1.15.8 la media.